Il professor Crepè, oltre ad essere un professionista noto come psichiatra, si rivela in questo intervento, un attento osservatore della società. Fare colazione con cappuccino e cornetto forse non è una sana colazione, ma ogni tanto si può fare uno strappo alla regola. Ma fotografarlo? Perché? E inviarlo? Cosa mai potrà significare? Ascoltiamo Crepè su questo argomento e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. A smetterla di fotografare il risotto o il cappuccino alle 8 e 5 del mattino al bar. L'altro giorno c'era una signora che rideva talmente tanto, dico scusi se lei ride così perché lei lo fa, vero? Io tutte le mattine fotografo il cappuccino. Pensate come siamo ridotti a un po' di autoironia, un po' di dire, perché sapete cosa c'è di bello? La speranza è legata ad una parola bellissima che si chiama nausea. L'uomo conosce la nausea, è una cosa straordinaria. Noi dobbiamo arrivare a quella nausea lì, c'è poco da fare. Dobbiamo fare tante fotografie su Instagram e poi forse qualcuno comincerà a dire, ma cosa sto facendo? Cominceremo a capire che stiamo facendo delle cose molto pericolose. Abbiamo smesso di scrivere, di leggere, di parlare. Grazie. Grazie.